Partiamo dai chiarimenti sull'ordinanza sindacale numero 58 emessa dal sindaco di Pescara il 30 di aprile. Carlo Masci sulla pagina facebook istituzionale del comune nella giornata di ieri fa scrivere che l'ordinanza non modificava nulla rispetto ai giorni precedenti, che la città di Pescara restava perfettamente allineata al decreto conte sul rispetto delle distanze, sull'uso delle mascherine, sul vincolo di prossimità all'abitazione per passeggiare, sui limiti di motivazione per uscire di casa e che le notizie, secondo le quali l'ordinanza avrebbe permesso di andare dovunque senza limiti e o vincoli, erano false e o frutto di un'interpretazione errata. Il post dell'amministrazione di centrodestra però è arrivato dopo che sulla riviera nella mattinata si erano riversate migliaia di persone pronte a godersi la bella giornata festiva primavenire dopo lunghe settimane di quarantena da coronavirus in barba a chi invece giustamente è rimasto a casa uscendo solo per la canonica boccata d'aria. Ma al primo maggio sulla riviera pescarese si è arrivati in un tourbillon di ordinanze regionali e sindacali che senza tema di smentita, vista la folla, hanno quantomeno generato confusione nei cittadini. Anche perché, tornando a Pescara, sul sito istituzionale il 30 di aprile appare questa notizia ed è forse qui il difetto di comunicazione che parla apertamente di passeggiata non menzionando il limite di prossimità all'abitazione e richiamando anche il fatto che non sarebbero state imposte le stesse limitazioni a strada parco, riviera e spiaggia applicate sotto le feste di Pasqua e il 25 di aprile. Il sindaco Masci al microfono di Paolo Renzetti rivendica la bontà della scelta fatta molto polemizzata però anche sui social. Ci siamo allineati alle prescrizioni del governo, chi abitava in prossimità della riviera poteva uscire sotto casa a fare una passeggiata come è previsto dal governo Conte. Questo è successo, c'era gente, in effetti anche io l'ho notato ma non c'erano assembramenti, il distanziamento sociale era rispettato e certo noi dobbiamo calcolare che sulla riviera di Pescara o in prossimità della riviera di Pescara vivono almeno 60 mila persone che per 53 giorni sono state chiuse in casa anche perché io ho fatto ordinanze più restrittive ma non potevo continuare a costringere i cittadini a rimanere a casa se potevano attraverso i decreti Conte uscire sotto casa e farsi una passeggiata. Diciamo una cosa, le riviere sono state sempre aperte, non sono state mai chiuse, sono state chiuse soltanto due giorni a Pasqua il 25 aprile e doveva essere chiusa la riviera il primo maggio. Quel provvedimento io ho ritenuto di non doverlo fare proprio perché non volevo costringere i pescaresi a subire un'ulteriore chiusura prevista solo per Pescara. E a proposito di polemiche il centro sinistra pescarese in coro annuncia che chiederà le dimissioni del sindaco e un consiglio comunale straordinario se la curva dei contagi dopo questo perlomeno improvvido primo maggio tornerà a salire. Loro sono stati bravi a fare una sola cosa, a dividere i cittadini, a spaccare la città. Hanno spaccato la città, hanno spaccato la città tra quelli che avevano l'esigenza di uscire e lo hanno fatto fidandosi e tra quelli che pur avendo l'esigenza di uscire sono stati più responsabili, si sono sentiti più responsabili e non l'hanno fatto. Noi se ci saranno nuovi contagi probabilmente i cittadini potranno chiedere i danni alla regione che ha riaperto senza ascoltare, senza guardare, senza leggere le curve di contagio e noi chiedere, neanche noi chiederemo i danni, i nostri chiederemo i danni e cioè diremo ai a questi che diciamo al nostro sindaco assolutamente che si dovrà dimettere perché quello che è successo ieri sulle spalle dei cittadini è assolutamente grave.